Agli inizi del Novecento con Camillo Boito, direttore del Pol di Pezzoli, dopo l'apertura appunto del 1881, Camillo Boito decise che le armi e le armature avevano bisogno di un intervento di conservazione, di rivisitazione, di riordino e possibilmente di catalogazione. Nel 1909 l'armeria al primo piano fu riaperta, sicuramente sempre affascinante, con un ordine che comunque sostanzialmente manteneva intatto il fascino dell'evocazione, della spettacolarità e della volontà, come sempre, di proporre questo passato. Nel sogno e nell'immaginario dei visitatori. La catalogazione però non venne ancora compiuta, ma gli anni passavano e il tema del gusto troubadour, del gusto del passato rappresentato in questo modo, si andava perdendo. Si andava sempre di più verso un razionalismo anche architettonico e non solo. Però la sala d'armi di Gian Giacomo Pol di Pezzoli resta nell'immaginario collettivo e lo dimostra questo dipinto di Filippo de Pisis, del 1939, che mostra proprio l'impressione, l'emozione, la forza dell'emozione che riusciva a suscitare ancora in quegli anni l'allestimento di Filippo Perù. Un allestimento che purtroppo andò perduto, perché il Museo Pol di Pezzoli, l'8 agosto del 1943, venne colpito da una bomba incendiaria e quasi completamente distrutto, come vedete anche in questa immagine, che è proprio l'immagine della sala d'armi, dove restano alcune delle decorazioni architettoniche, questi capitelli, l'ingresso con arco acuto e delle tempere murali. Però tutto il resto non esiste più, e comunque non esiste più la sala, mentre le armi fortunatamente erano state messe in salvo e poterono poi ritornare quando il museo venne riaperto al pubblico nel 1951, grazie al sostegno soprattutto dello Stato italiano. e quindi con un riordino che venne affidato all'architetto Mario Tevarotto, un architetto razionalista che evidentemente si trova di fronte a un palazzo distrutto e sceglie la pulizia, il rigore, con alcune citazioni del passato. Andiamo a vederle proprio nella sala d'armi. Prima di tutto la sala d'armi non è più al primo piano del museo. Grazie ad uno scambio di spazi tra i discendenti delle rede di Gian Giacomo Pol di Pezzoli e la fondazione artistica, venne messa a disposizione al piano terreno del museo una grande sala che non faceva parte della casa museo di Gian Giacomo Pol di Pezzoli, ma che era assolutamente perfetta per accogliere gli oltre mille pezzi di opere che Pol di Pezzoli aveva collezionato. Questa sala rettangolare spoglia, severa, con un allestimento che venne affidato per la parte architettonica a Mario Tevarotto, ma per l'allestimento degli oggetti a due studiosi austriaci, Bruno Thomas e Otto in gambe, che avevano studiato la collezione e che la riproponevano secondo un criterio che univa insieme la cronologia alla tipologia delle opere. Un allestimento abbastanza severo e anche pauperistico, dove c'era la volontà di ricordare l'allestimento di Peroni riproponendo le panoplie alle pareti. Una sequenza di alabarde, stendardi e, forse la cosa più bella, una vetrina centrale, ovale, che consentiva anche di vedere le opere nella loro tridimensionalità, mentre le vetrine erano ovviamente scavate all'interno dei muri e proponevano una sequenza che poi di volta in volta, nella sequenza degli anni successivi, divenne sempre di più didattica. Perché il museo negli anni 70, a metà degli anni 70, aveva iniziato proprio questo suo percorso di attività didattica per i ragazzi delle scuole elementari e medie e quindi la sala d'armi, sempre affascinante per i ragazzi, riproponeva una sorta di storia dell'evoluzione, degli strumenti bellici e di rappresentazione del potere, perché questo non va dimenticato, perché erano anche abiti di ferro con oro e incisioni tecniche della gemina piuttosto che dell'oro a mercurio che rendevano preziosissime queste opere. Tutto questo consentiva un percorso sicuramente interessante, molto lontano dalle suggestioni volute da Gian Giacomo Pol di Pezzoli. Insomma, non funzionava più questo allestimento e all'inizio degli anni 90 il Consiglio della Fondazione insieme alla direttrice Alessandra Mottolamolfino pensarono all'opportunità di rivedere questo che era un ambiente e una collezione soprattutto famosa nel mondo. Si tentò all'inizio a proporre un allestimento che citasse quello di Gian Giacomo Pol di Pezzoli, ma non funzionava. E poi ci fu l'idea davvero brillante, quella di affidare ad un artista la sala d'armi non tanto riallestendola, quanto reinterpretata. Negli anni 90 in effetti c'erano stati già in Europa alcune sperimentazioni interessanti, prima fra tutta quella del MAC a Vienna, del Museo Angevenste Kunst, che riproponeva questi oggetti, oggetti di arti decorativi, messi nelle mani di un artista che dialogava col curatore della collezione, in allestimenti interpretativi davvero affascinanti e di grande impatto. L'artista scelto fu Arnaldo Pomodoro. Chi meglio di lui conosceva i materiali, il ferro, il bronzo, il rame? Chi meglio di lui conosceva anche l'importanza della rappresentazione scenica? Perché è proprio ad Arnaldo Pomodoro che dobbiamo le scenografie di importantissime opere, a partire dagli anni 80-90. Era la persona giusta che accolse con grande entusiasmo questa impresa, durata quasi quattro anni e che si basò anche sulla catalogazione che nel frattempo era stata fatta di tutti i pezzi della sala d'armi, affidata al grande studioso Lionello Boccia, affiancato da José Godoy e dal restauratore delle armi e metalli, quindi gioielli, orologi, tutte le collezioni di metalli del Pol di Pezzoni, Domenico Collura, che ha accompagnato la storia del museo e della conservazione di questi materiali per un periodo lunghissimo, con grande competenza e grande passione.